Martocetti, anche se le temperature sono ancora abbastanza alte, tra voi, tra UMPLI e Proloco già si stanno ponendo le basi per parlare del Natale che è diventato sempre maggiormente un punto focale dell'UMPLI provinciale. Ci siamo visti assieme alla Regione Marche, rappresente per la Regione Marche il Vice Presidente del Consiglio regionale Minardi. Tra l'altro devo dire che lo scorso Natale abbiamo mobilitato 260.000 turisti nella nostra provincia, alberghi, ristoranti, bed and breakfast pieni. Quindi l'obiettivo è quello di continuare a promuovere, di continuare a muoverci su questo percorso che è un percorso tra l'altro molto importante perché tocca praticamente tutta la provincia di Pesorurbino e tra l'altro nella promozione del territorio poi ci sono delle ricadute nei periodi estivi perché poi i turisti che conoscono grazie ai mercatini di Natale il nostro territorio si innamorano talmente tanto del nostro cibo, delle nostre peculiarità e anche del nostro mare che poi ritornano nel periodo estivo. E da qui c'è una programmazione non solo di continuare con l'ufficio stampa che già abbiamo a livello nazionale ma anche di mettere in rete assieme all'Ami, abbiamo chiesto la disponibilità all'Ami di poter mettere dei pullman che girano, che possano partire a fare dei percorsi in modo tale da poter muovere di meno le persone con le macchine e quindi anche di portare un movimento urbano ecosostenibile quindi pensando anche all'ambiente. Questo è il nostro obiettivo e soprattutto anche per promuovere quello che è il territorio legato al Natale che va dalla fine di novembre al 6 di gennaio. Da qui la decisione di lavorare tutti insieme, uniti, perché io dico sempre che l'unione fa la forza se lavoriamo uniti e lavoriamo insieme da qui si può accogliere e fare tante cose. Grazie anche alla Regione Marche che siamo riusciti a presentare alla BID di Milano il Natale che non ti aspetti, l'abbiamo portato anche in altre fiere abbiamo chiesto di portarlo anche in altre fiere a livello internazionale perché crediamo che il nostro centro Italia che sia diventato il punto più importante dei mercatini di Natale possa svilupparsi anche all'estero così che possiamo portare i turisti anche dalle altre nazioni a vedere i nostri bellissimi mercatini di Natale che sono veramente attraenti e veramente curati nei minimi particolari.